Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla PPLI all'altezza del chilometro 79 nel ramo di Livorno è chiusa la carreggiata per lavori di pavimentazione in direzione Firenze. Fino alle 13 per lavori è chiusa l'uscita di Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Per i lavori di sicurezza sul viadotto del Turbone possibili disagi in entrambe le direzioni tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Sulla statale 302 Brisighellese Ravennate senza unico alternato è il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 13 nel comune di Fiesole. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!